Di Giacomo a Matuna dovranno rinunciare a ricandidarsi e quanto stabilito al termine del vertice palermitano di ieri che avviso la presenza di una folta delegazione del PD di Ragusa e Vittoria guidata dal segretario provinciale Zago incontrare il dirigente nazionale Zoggia e il segretario regionale Lupo. Nella riunione è stata confermata l'impossibilità di tornare indietro sulla scelta di includere Di Pasquale nella lista di Crocetta ma si è ottenuta la magra consolazione che l'ex sindaco del PDL non sarà incluso tra i nominativi del listino del presidente. A Rosario Crocetta, che non ha preso parte all'incontro, è stato chiesto in particolare di dichiarare pubblicamente la sua contrarietà all'inclusione di Di Pasquale nel listino. I livelli nazionale e regionale del partito hanno preteso inoltre che le città di Ragusa e Vittoria esprimano candidature forti e autorevoli nella lista del PD. Impostazione condivisa dal segretario provinciale che mette a questo punto fortemente in dubbio la ricandidatura di uno dei due parlamentari uscenti. Salvo Zago adesso avrà il non semplice compito di riunire la direzione provinciale per cercare una sintesi. L'inclusione di Di Pasquale nel listino del candidato presidente è stato rimarcato al termine della riunione e porterà al disimpegno del PD di Ragusa nei confronti di Crocetta ma non verso la lista del Partito Democratico.